benvenuti a un nuovo appuntamento di qui a qua a qua parte il concorso per ambasciatori per solo le donne perché come si sa ambasciatore non porta bene questa sera qui qua qua parleremo della prima autobiografia di luca giurato dal titolo sotto tu di me corri a comprarlo io lo appena taffo ma la panna vergine può essere montata in amore vince chi fugge sarà per questo che i lati tanti sono pieni di figa se un prete in fondo alla schiena ha un osso sacro un ateo avrà l'osso profano questo ed altro ancora questa sera a qui qua quark seguitici in un fuori onda il precedente mattanello ha dichiarato per uscire dalla crisi ci vogliono i coglioni ma renzi non ha capito la battuta e ha dichiarato allora mi ricandido questo ed altro ancora a qui qua qua ma nella nostra rubrica anche tanti servizi linea al nostro inviato siamo di nuovo in tibet alla ricerca del mondo sperduto ma come vivranno qui in tibet come comunicano fra di loro dovete sapere che qui la vita è più genuina seguitevi ci troviamo di nuovo nella dimora di questi due santoni perché voglio scoprire cose che altre persone non hanno mai scoperto ma voi che state sempre nel silenzio come fate a comunicare tra di voi e anche stasera finisce qui l'appuntamento con qui qua qua alla prossima grazie a tutti grazie a tutti